Primo giorno, invocazione d'aiuto a Maria. O Vergine Immacolata, primo e soave frutto di salvezza, noi Ti ammiriamo e con Te celebriamo la grandezza del Signore, che ha fatto in Te mirabili prodigi. Guardando Te, noi possiamo capire ed apprezzare l'opera sublime della redenzione e possiamo vedere nel loro risultato esemplare le ricchezze infinite che Cristo, con il Suo sangue, ci ha donato. Aiutaci, O Maria, ad essere come Te, salvatore insieme con Gesù di tutti i nostri fratelli. Aiutaci a portare agli altri il dono ricevuto ed essere segni di Cristo sulle strade di questo nostro mondo assetato di verità e di gloria, bisognoso di redenzione e di salvezza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen